Martina Bertelle, Assessore alla Cultura del Comune di Valdobbiadene, questa sera si presenta il volume Quando senza polenta si moriva di fame, un volume sostenuto e un progetto sostenuto dall'amministrazione comunale di Valdobbiadene che grazie ad un bando regionale ha riuscito appunto a promuoverne la pubblicazione. Sì, finalmente siamo arrivati a questa serata tanto attesa, è stato un lavoro di circa un anno che appunto gli autori hanno curato, hanno ripreso in mano questo diario di 700 pagine scritta dalla nostra valdobbiadenese Caterina Errigoni, ormai la sentiamo veramente molto vicina adesso che siamo qui a questa presentazione e hanno lavorato, l'hanno curato, hanno ricostruito tutto quel periodo dell'anno della fam e grazie a questo contributo regionale che è stato fondamentale siamo riusciti a pubblicarlo. Il consenso è stato avuto anche dalla famiglia che siamo andati anche a trovare e ci ha mostrato l'originale di questo diario è stato emozionante perché Caterina l'ha scritto interamente a mano e poi ci raccontava che in quel periodo dell'invasione era costretto anche a nasconderlo, poi lo riprendeva e riscriveva i giorni che aveva appena vissuto quindi questa sera è veramente una grande emozione. Siamo con Luca Nardi, giovane autore insieme al professor Giancarlo Follador del volume Quando senza polenta si moriva di fame, il diario di Caterina Errigoni. Che cosa racconta questa ripubblicazione del diario di Caterina Errigoni? Beh, racconta un aspetto particolare della prima guerra mondiale, il profugato dei civili della sinistra piave che furono occupati durante il dicembre del 1917 e quindi costretti ad allontanarsi dai paesi di origine. E questa donna appunto ha raccontato, Caterina racconta, tutte le traversie che caratterizzano questa fuga da Valdobbiadene e il successivo anno, il 1918, lontano dalla propria terra d'origine. Il titolo è nato, è una scelta particolare, quando senza polenta si moriva di fame quando senza polenta si moriva di fame perché fame e polenta sono i due termini ricorrenti di questo diario la fame perché effettivamente nella zona di Vittorio Veneto dove Caterina si trasferisce insieme ai valdobbiadanesi si soffre la fame e si muore di fame, la polenta che era l'alimento di base in quel periodo. Sì, la particolarità di questa pubblicazione è proprio il fatto che non ci si sofferma come tanti altri diari memorialistici su un singolo episodio, su una singola popolazione ma si fa proprio uno spaccato di tutta la zona del Vittoriese e dei drammi sofferti dai profughi di Valdobbiadene ma anche di tutto il territorio dell'Alto Trevigiano. Nel messaggio anche il tema del profugato che ha delle analogie molto interessanti con i giorni nostri. I profughi del 1917 venivano additati ed esclusi da tutte le comunità che invece avrebbero potuto accoglierli. Sì, è un messaggio forte perché spesso l'autrice dice che questi profughi erano trattati molto male, erano visti come delle persone che andavano a causare delle problematiche anche economiche per queste popolazioni che le avevano ospitate e quindi spesso e volentieri l'atteggiamento degli ospitanti non fu positivo. E quindi forse un piccolo esempio per capire come anche oggi succedono dei drammi simili e spesso però non ci si ricorda che anche in Italia sono avvenuti simili eventi cent'anni fa. Quindi è un messaggio molto importante che vorrei lasciare con questa pubblicazione.